Milano. Sono di fronte due campioni europei, il leggero Duilio Loy e il piuma Rai Femchon, recente vincitore di Sergio Milan. Il francese, banda bianca sulle mutandine nere, è subito preso d'infilata da una scarica di colpi. Le prime tre riprese sono nettamente per Loy, abilissimo anche nelle finte. Così è riuscito a brillare nella tournea australiana e a vincere anche negli Stati Uniti. Fiotto bersaglio è il momento di Femchon. Il triestino non concede tregua all'avversario. È tanto il suo slancio che scivola. Poi gradatamente Femchon rimonta allo svantaggio iniziale. Tecnica ed esperienza fanno di lui un grande pugilatore, ancora in grado di primegiare in Europa tra i pesi piuma. Alla schivata Femchon fa seguire una serie di colpi che frenano l'aggressività di Loy. Ormai i due avversari sono su un piede di parità. Stanchi si rifugiano nel corpo a corpo. Tuttavia gli ultimi colpi sono di Loy che dopo aver iniziato in modo scintillante vuol terminare da vincitore. Per poco ma la vittoria è sua. Una cordiale stretta di mano suggella l'incontro fra due grandi campioni, i migliori d'Europa nelle rispettive categorie.